Introduzione di nuove tipologie di soggetti ammissibili, requisiti di accesso al contributo regionale alle primarità e alcuni aspetti che concernono la rendicontazione. Sono queste alcune delle novità introdotte dall'Aggiunta regionale su proposta dall'Assessore regionale della cultura Giuseppe De Sena all'articolo 56 della legge regionale 2290 che si occupa di spettacoli dal vivo. Le novità sono state illustrate stamattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'Assessore De Sena e i rappresentanti degli organismi di spettacolo. È una grande soddisfazione essere riuscita a modificare una delibera che permaneva da tanti anni, ha detto De Sena, causando un diffuso generale scontento nel comparto. Si è giunti finalmente ad un primo risultato condiviso che soddisfa meglio le attuali esigenze attraverso modalità delle quali siamo particolarmente convinti e orgogliosi, ovvero con un tavolo inclusivo e partecipato insieme a tutti i rappresentanti del settore. Questo è solo un primo passo da cui a breve, a concluso De Sena, riuniremo di nuovo il tavolo per parlare del disegno di legge. Il percorso di ascolto interpreso tra l'assessorato e i rappresentanti delle organizzazioni dei settori ha portato a diverse modifiche dei criteri. Infatti al bando ora potranno accedere le compagnie che abbiano tre anni di attività invece che cinque e potranno inoltre partecipare alle aggregazioni a TS e AT che precedentemente erano escluse. Incentiviamo questa buona pratica dell'aggregazione con premialità significative, ha detto De Sena. Il punteggio è stato sostanzialmente ricalibrato dalla struttura, ovvero dalla capacità occupazionale di gestione dei teatri. La valutazione si sposta agli elementi relativi alla produzione, diffusione e organizzazione degli spettacoli, dunque alla qualità. Tra le norme è stata inserita la distinzione tra rassegna e festival con riferimento alla durata temporale. La rassegna deve contenere almeno 15 spettacoli con titoli diversi in un unico cartellone che sia la sintesi di un progetto culturale coerente. Inoltre è stato abbassato il punteggio minimo per l'accesso alla premialità che passa dai 30 punti agli attuali 25 nelle schede di valutazione.